Vision ottica Saracino Occhiali, lenti a contatto, occhiali da sole, binocoli, telescopi Centro specializzato lenti progressive Centro specializzato lenti a contatto progressive Sistema post vendita SOS Per una dolce visione, regala un occhiale, promo natale Sconto del 50% sulle migliori marche E ancora, il regalo perfetto, ce l'hai davanti agli occhi Regala una card vision ottica da 25, 50 o 100 euro Una novità, si gioca Gioca e vinci ogni giorno una gift card vision ottica da 100 euro Qualità e convenienza al servizio del cliente Ci aspettiamo in Viale Liguria 44 Taranto E naturalmente, sinceri auguri di buone feste Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti